ah 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 sta spaventando ma prendo marco 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 è scelta potpare mamma mh grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti giocatore non è ognuno dice di cera il fatto da un mondo per cui non si tratta di un sacco della terapia 0 4 roma non c'è a dicembre ammita anche dicembre beh io ho realizzato l'ultimo nell'anno e ora è un salire per fare vuoi per me il tuo mara vicino non preoccupare faccio attrattivo attrattivo parma a testa di soluzione per me così la parola cd esser sincroni a più tanto per l'attenzione il minimo è un pochettino e minchia 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 sono morto come c'è matrimonio? come c'è matrimonio? vabbè dai ma un'assoluto una guanchetta farei guanchetta e che è e che è ma l'altro quello guanchetto mi pare tenetene due a mano regalo dimasciata in chiesto te che c'è la conta angelo ma c'è ah minchia rega quello un colpo di sole che ne è morto no è uno che le minibasso don non 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 ma non 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 4 ma non è la mia con l'intervento questo gioco lì non ciò al giorno tirato la tira la tira il sovrappetano ce la fai a te la città c'è un problema questo white 2 4 appare al progetto gli rimaniamo tutti qualche poi c'è è fattibile si può fare il secondo tentativo c'è al primo tentativo c'è il primo cristallo ad lasciarlo one hit il secondo si fa lui ci vuole fare ma si può fare guarda questo davvero anche le mani a porca puttana ma no le gambe del cristallo così no cazzo me le fatterei le pedane fra le volante mo io le do mo io le do viene angelo un pochino poter dopo un'eternata 50 no mamma 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 hai fatto lo schifo mamma m ha un misto fatta fatta veramente schifo non mi posso farle un pochino no rega mamma mi one shot no veramente rega la sef no ma io tiro la botta se no ci morivo ancora mamma capito che one shot però se nessuno fa il mini post ma ci sto parlo ma io ci sto parlando qua no no c'è che faccio la sale go oh la one shot Ostrov 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 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 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 9 9 11 9 9 10 10 11 la cura e rega lasciamolo con il termine angelo vai te la mia ansia appena vedi che si chiude la fallo fare la macchina bambino non ho trovato un altro marco non mi ha fatto no poi se lo fa angelo se lo fa per un altro macchina non mi basta che ma porca di quella puttana rega se vi dico una cosa fatela no rega è un'arma difficile non possiamo scherzare non dobbiamo perdere nemmeno uno eh dovete farlo te a king il mini venga vieni qua rega io vi ho fatto l'occhio bello sennò c'è una scelta parola di volto no figlio di troia bravo macchina sei troppo forte dai rega dai rega se lo riprendiamo angelo quando rimanca il mini boss per te la macchina poco non lo so ma se io sto parlando in tutto il resto mi guarda si va a dire che non si sta parlando in tutto il resto mi guarda non mi sto parlando in tutto il resto sono un coglione sono un coglione sono un coglione sono un coglione veramente vai vai fate il mini fate andiamo andiamo vito vai 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 matti non è vero va bene va bene matti vai come angelo non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' rega il mini boss no cazzo peccato il mini boss non fa la patria non fa la patria ma non c'è un po' peccato per le mini boss dico che doveva lasciarlo con it ci stavano ripetendo ma si guarda la mano manca l'ultimo manca parziali in merda quel diavolo ce l'ho già fatto c'è un po' matti ma si ma si è girato ma si è girato ma si è girato che fa oddio parliamo rega io potrei pure fare la fumare dandoci ogni due sei no 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 vai rega vai attira credo mangiare vai rega spavano la merda vai che stasso da lì di secondi il difficile che sta a letto che è il attesnale ammazza non è abbastanza vediamo che gioco di merda mamma mia che gioco di merda rega rendete conto che non per perdevo vita però non mi diceva che non mi faceva quella cosa non mi faceva la botta no rega anche io sono morto rega ok mamma mia io ho idea per farla fumare si esatto proprio quello lì no no è vero il geyser geyser rega geyser si geyser guarda io guarda io sono guarda io guarda io no no esatto quello lì che ho fatto prima io no non muore non muore non muore filati ma si è rotto il geyser comisa non va più il geyser è vero ma ti fai da te forte sai io io do i tuoi rega 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 raga facciamo così noi tre ninja facciamo così eccomi qua eccomi qua аемon una corazzo non me l'ho dimenticato eheheh e beh ehheheh bu da da vengo 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 su re vengo su re arrivo sono morto botta botta angelo avvicinati vai matti botta da me angelo qualcuno ce l'ha angelo avvicinati per quanto riguarda vogliono di nuovo il grido e io guarda dove sto è vinto è vinto vado 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 pota inizio cosa ne ha capito io non quando all'acqua ma non ma era difficile veramente mamma mia ragazza faccio ma ma state proprio bravi vado a 3 metri ora alla fine bravo angelo, non giochi tanto bravi rega bravi bravi rega bravi rega non perde la mano angelo 3 minuti ci abbiamo messo a parte finale quanti? 3 minuti all'incirca cioè perchè io ho tirato subito l'attacco aereo l'ho appena finito ce l'ho appena riavuto noi già noi ci abbiamo messo ci abbiamo messo 2 minuti e qualcosa perché io ce l'avevo ancora di 10 minuti mamma mia era bravissima l'abbazione è fortissima, più di prima e in tutto il re è durato 10 minuti e 54 gira che sono troppo forti veramente veramente una collaborazione è testiale questa cosa se ne è malato detto al comattino tante cose c'è come un po' matthii ne infatti vedi qua ba 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 eh ma vedi qua